Aurelio Margheretta, lui vi tiene una leggera perdita rispetto al 2008, un buon risultato personale? Sapevamo che il momento era difficile, comunque siamo molto contenti, l'Unione si afferma sempre come la forza politica che dà continuità e che dà certezze alla nostra comunità, sia per coloro che ci hanno votato, sia per coloro che non ci hanno votato, capiamo che il momento è difficile, da parte nostra il massimo dell'impegno cercando di migliorare questa situazione. Credo che il lavoro sia stato premiato, è un momento difficile, c'è tanta antipolitica, ma noi proseguiamo bene il nostro lavoro. Il risultato degli attuali alleati del governo, Federazione Pdl, ve la aspettavate? Credo che fare previsioni era veramente difficile, perché la situazione era veramente molto fluida, mi dispiace perché comunque il lavoro è stato portato avanti assieme, credo che il risultato elettorale vada rispettato e noi andiamo avanti con le nostre forze cercando di dare risposta ai problemi della gente.